E andiamo alla sentenza che era attesa per quel delitto compiuto a Napoli e per quella giovane vita stroncata, quella di Gio Gio. 20 anni di carcere al 17enne che a Napoli uccise a colpi di pistola Giovanni Battista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni per una banale litte sul posteggio del motorino. La vittima era conosciuta con il soprannome di Gio Gio. Stava trascorrendo un fine serata con amici in un locale nel centro di Napoli, in piazza Municipio. Era il 31 agosto scorso. Davanti al tribunale dei minorenni stamattina, mentre si svolgeva il processo, si sono radunati tutti i suoi compagni e amici, oltre ai tanti musicisti che suonavano con lui nell'orchestra Scarlatti Junior e hanno improvvisato una sorta di concerto per imbocare giustizia. Il processo ha aperto i riflettori sui due volti di Napoli a confronto sul banco degli imputati il 17enne con un passato da rapinatore di orologi Rolex e di fronte in aula i familiari di Giovanni Battista. È giusto che questa sentenza così importante scriva una pagina di storia, la storia di Gio Gio. Io la chiamerei la rivoluzione Gio Gio, perché adesso Gio Gio aiuterà gli altri. E questa è la cosa che più mi interessa. Nella sentenza il gruppo non ha accettato la messa in prova alternativa al carcere richiesta dall'avvocato del 17enne e ha accolto la richiesta del pubblico ministero. 20 anni, il massimo della pena per un minorenne, considerato anche il rito abbreviato. Subito dopo la sentenza, attimi di tensione fuori dal tribunale, il padre del presunto omicida avrebbe fatto il gesto della pistola agli amici di Gio Gio con atteggiamento minaccioso, come raccontato dalla madre della vittima. Gli amici hanno risposto intonando cori per Giovanni Battista, che ha pagato con la vita il semplice fatto di aver fatto da pacere in una banale lite?